Perché, perché, perché sono un monello? Perché, perché, perché sono senza cuore e non c'è vero? Perché, sono libero e non corto? Perché, perché, sono tanto giga corto? Le avventure di Pinocchio, del famoso burattino Vispo e Monello che ha fatto parte dell'infanzia di tante generazioni di bambini, portate in scena per l'eita dei piccoli allievi della terza E della scuola, istituto comprensivo Mussi di Miccoli. Un Natale da favola, Carissimo Pinocchio, il titolo dello spettacolo, che ha visto i piccoli protagonisti interpretare con maestria i vari personaggi della storia del burattino birichino. Il grillo parlante, Geppetto, il gatto e la volpe, la fatina buona, i compagni di Pinocchio, Mangiafuoco, Lucignolo, tanti personaggi con varie caratteristiche che hanno accompagnato le avventure di un pezzo di legno trasformato in burattino e poi divenuto bambino vero. Varie scene nelle quali si sono avvicendati piccoli attori che da veri artisti hanno saputo calarsi nel ruolo interpretato facendo vivere la storia ed emozionando il pubblico presente. Musiche e melodie famose, colonna sonora dell'infanzia di tutti, hanno fatto canticchiare genitori e nonni mentre sul palco i piccoli protagonisti ballavano e recitavano. Un lavoro sapiente, quello realizzato dalle maestre, Dora Ruta, Lucia Capuano e Nicoletta Pellegrino, che instancabilmente hanno trasformato gli alunni con grande amore e pazienza in veri attori, coltivando le attitudini di ciascuno e valorizzando il talento dei propri studenti. Sempre con gioia ed entusiasmo, un entusiasmo contagioso che hanno trasferito i piccoli, facendo diventare questo spettacolo occasione di socializzazione ed un momento in cui imparare a conoscere le proprie capacità e a superare i propri limiti, sempre con uno spirito di grande complicità ed amicizia. Proprio il tema dell'amicizia, filo conduttore della rappresentazione, valore fondamentale alla base dell'allestimento. L'amico è importante per Pinocchio, come per ciascun bambino e per tutti noi, l'amico è chi per mano ti conduce più velocemente attraverso la vita. I piccoli alunni lo hanno imparato bene, recitando sempre con complicità ed amore, così come trascorrono le loro giornate scolastiche in classe. Un lavoro di aggregazione, solidarietà ed amicizia, superando l'io e proiettando la classe verso il noi, quello svolto dalle insegnanti, chiamate ad insegnare ai più piccoli non solo lezioni teoriche, ma anche valori fondamentali per la loro crescita. Aria di festa e di gioia in scena alla Busti, in un allestimento curato anche negli abiti di scena. Pinocchio vive tante avventure, incontra tanti personaggi, imparando giorno dopo giorno nuove lezioni di vita, che lo faranno maturare e finalmente diventare bambino vero. Semplicemente un messaggio di amicizia e di solidarietà. In un momento in cui appunto il Natale sembra sotto i riflettori per tanti motivi, il nostro Natale è all'insegna dell'amicizia, va al di là della cultura, va al di là della religione, va al di là di tutti quelli che possono essere i teoremi. Quindi per noi il Natale è stare insieme ed essere sereni, felici insieme a tutti questi bambini. Grazie. Noi come scuola teniamo molto alle ricorrenze che ci hanno accompagnato per tutta la vita e che vogliamo trasferire ai nostri bambini. Nella scuola e nella famiglia che i bambini crescono, si formano e non devono mai smettere di riferirsi a tutto ciò che è la creazione. Certo noi siamo aperti alle religioni, siamo aperti alle varie idee, ai vari pensieri, ma le nostre radici religiose non devono mai venire meno.